ciao a tutti ben trovati nella nostra consueta rubrica di libri oggi parliamo di un libro che nasce per ragazzi ma che in realtà parla universalmente a tutte le età perché la storia che racconta è una storia talmente esilarante e profonda che conquista anche gli adulti è la storia di do un ragazzo adolescente che si ritrova per un caso fortuito del destino o per qualcosa che ancora non sa ad ospitare una famiglia di dossi di ortodossi sono cinque ragazzi le cui mamme sono amiche che sconvolgono la quotidianità di do proprio perché rappresentano in un certo senso una parte della società israeliana molto lontana a questo ragazzo così realizzando una goffa messa in scena la famiglia di do finge per l'appunto di essere anche sortodossa c'è qualcosa che non torna però ai do c'è qualcosa che i suoi genitori non gli hanno detto ma c'è qualcosa di cui è certo che avigail una dei cinque ragazzi della famiglia ha conquistato in un secondo il suo cuore così in questo racconto a metà tra il giallo e a metà tra il romanzo rosa scopriamo un'interessante realtà della cultura e della della società israeliana ma al contempo ci facciamo conquistare dalla dalla narrazione di quest'adolescente che mette in evidenza tutte le contraddizioni dello stato di israele